L'Unione fa la forza, soprattutto in campo turistico, così di Ciotrasporti, Navigazione, Lago d'Orte e Amministrazione Comunale di Omenia hanno presentato un progetto che mira a incentivare l'utilizzo delle barche da parte dei residenti e dei turisti. Sì, è un progetto per far scoprire anche ai residenti il nostro territorio. Capita spesso di vedere comunque persone di Omenia che conosciamo, amici così, che mi dicono, porca miseria, non sono mai stato all'isola di San Giulio, spesso sono venuto magari a Orta via strada, non ho mai preso il battello, non ho mai visto l'Omenia e il Lago d'Orta dal lago. E questa appunto è un'iniziativa che serve a far conoscere il nostro territorio anche ai residenti. Come si svilupperà questa iniziativa? Con uno sconto del 20% sul biglietto giornaliero per i residenti di Omenia e per tutti i turisti che sono ospiti di una struttura recettiva. Sì, ti confermo, il 20% di sconto basterà presentare comunque la carta d'identità dove si attesta che sia residenti a Omenia e il nostro personale applicherà immediatamente il 20% di sconto. Questa cosa può essere ripetuta più di una volta. Cosa significa questo progetto per l'amministrazione? Beh, intanto questo progetto è un altro passo avanti nella collaborazione che c'è tra il Comune di Omenia e la navigazione Lago d'Orta e questo permetterà a tutti i turisti che cercano di dormire a Omenia di poter usufruire di questo sconto e quindi è un bel vantaggio per il turista scegliere la nostra città anche per dormire rispetto magari a altri comuni. Assessore, ci saranno anche 100 biglietti di fatto gratuiti che la navigazione darà l'amministrazione comunale di Omenia e che voi volete utilizzare in maniera un po' particolare. Sì, vogliamo che le famiglie fragili che sono seguite dai servizi sociali del Comune di Omenia possano utilizzare questi biglietti per trascorrere una giornata insieme sul lago e guardare questo lago con gli occhi diversi.